Cari amici, Caritas e CGL hanno diffuso ieri dei dati ripresi dal Corriere della Sera sconvolgenti sull'immigrazione irregolare. In particolare hanno preso in esame un campione molto ampio di immigrati che lavorano sotto costo nelle campagne del sud, ma anche ormai del nord. Vi leggo qualche dato, il 71% dei braccianti non è iscritto all'anagrafe, il 70% è senza contratto, il 36% è senza acqua potabile, il 30% non ha accesso a servizi igienici e l'89% è incapace di esprimersi nella nostra lingua. Sono dati incredibili che andiamo a completare con l'osservazione che ormai il caporalato si sta spostando verso nord e da questo insieme di dati, diciamo che la Caritas conclude che il decreto di sicurezza, il decreto Salvini e sicurezza peggiorerà ulteriormente le cose, producendo nuovi schiavi e nuovi immigrati regolari. Però il Corriere della Sera fa notare, proprio nelle ultime righe del pezzo, che la nostra agricoltura a questo punto finirebbe in ginocchio senza schiavi. Esattamente, perché di quello stiamo parlando, di schiavi. A questo punto verrebbe da chiedere ai tanti sostenitori dell'immigrazione incontrollata, non so, a Sandro Veronesi che vuole mettere il suo corpo sulle naviche ONG, ai tanti che intervengono, alla Murgia, tutti gli intellettuali. Vorrei sapere se questo è ciò che desiderano per l'immigrato. Certamente no, però l'immigrazione clandestina produce questi fenomeni che sono allucinanti. Allucinanti per l'immigrato che viene qua a vivere come uno schiavo, allucinanti anche per gli italiani che ovviamente non possono più andare a lavorare nei campi per le somme ridicole che vengono date ai braccianti immigrati irregolarmente. È un gioco a perdere che il decreto di Salvini cercherà di interrompere. Certo, nell'immediato è vero che probabilmente ci sarà, produrrà più immigrati irregolari, ma sulla lunga distanza si propone proprio di regolare i flussi e quindi di eliminare delle vergogne come quella documentata dal Corriere della Sera. Grazie.